Zenzero e aglio sono due alimenti incredibili che abbiamo tutti in cucina. Noi non ce li facciamo mai mancare, hanno benefici importanti per la salute e insieme il loro effetto è ancora più potente. Ecco i benefici di zenzero e aglio contro i disturbi comuni. Mal di testa. Lo zenzero inibisce l'infiammazione dei vasi sanguigni del cervello. L'aglio migliora la circolazione e abbassa la pressione perché rilassa i vasi sanguigni. Cattiva digestione. Lo zenzero ha un'azione carminativa e antigonfiore. L'aglio è lenitivo per lo stomaco. Diarrea. Lo zenzero riduce il gonfiore e gli spasmi mentre l'aglio immunizza dai batteri intestinali nocivi. Disturbi circolatori. Lo zenzero equilibra la coagulazione del sangue. L'aglio è un vasodilatatore e aiuta a stabilizzare la pressione. Disturbi respiratori. Le proprietà antisettiche dello zenzero combattono le infezioni virali. Anche l'aglio è un potente antivirale naturale. Malagni stagionali. Lo zenzero è noto per essere uno stimolante del sistema immunitario. Lo stesso vale per l'aglio grazie agli antiossidanti naturali. Virilità. Lo zenzero è un noto afrodisiaco naturale. L'aglio sostiene la libido e riduce i disturbi maschili. Ma è fantastico! Ci dici come fare l'infuso? Certo, è facilissimo. Gli ingredienti di base sono zenzero e aglio, ma si può variare aggiungendo miele, limone, cannella. Ingredienti. 4 tazze di acqua, 6 cm di radice di zenzero, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiai di miele, opzionale, succo di limone a piacere. Preparazione. Sbucciare e tagliare lo zenzero a fettine, sbucciare lo spicchio d'aglio e tagliarlo a metà per il lungo. Bollire insieme nell'acqua per 15-20 minuti a fuoco lento, coperto. Lasciare raffreddare, filtrare e insaporire a piacere. Bevuto ogni giorno, questo infuso previene molti disturbi comuni e sostiene la salute e la vitalità naturale. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale, il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggo in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!